Nella campagna verbasa dal rumore di un torrente, Osvaldo, lungo quanto uno spirulone e ombretta, simile ad una verica, fermi. In una cosa plastica sembrano due sculture che difissero con l'aria velevola. Dove stiamo andando? domandò Osvaldo e poi aggiunse. Il sole si ormai è coricato all'orizzonte e nelle case le famiglie si preparano alla cena. Ella stava assaporando il momento presente, dimenticando quasi il motivo del suo viaggio. Vorrei cambiare la mia vita e illuminarla come una stella, esclamò ombretta. Domani, quando il sole sarà picco e tardeggia, brillerò più dell'astro luminoso. I due scomparvero nell'ora radiosa, mentre giocavano nel cerchio d'ombra di un albero secolare. Questo è il regno delle favole, del principali e della vostra fossella.